Voltiamo pagina. Ieri a Bari presso l'assessorato regionale alla sanità il presidente Michele Emiliano ha incontrato una delegazione di cittadini contrari all'obbligo vaccinale che lo ricordiamo è stato introdotto con la legge 119 del 2017 e che prevede in caso di non vaccinazione, in realtà si tratta di un aumento del numero di vaccinazioni, prevede sanzioni come la non iscrizione a scuola o multe in denaro. In questa occasione Michele Emiliano ha detto un errore a aumentare il numero dei vaccini. La regione Puglia è sempre stata favorevole all'obbligo vaccinale previsto dalla precedente legislazione che per un ventennio ha regolato senza particolari problemi la materia. La convinzione che l'estensione delle vaccinazioni obbligatorie da 3 a 10 e il rafforzamento delle sanzioni in caso di nottemperanza sia l'unico mezzo per far risalire il numero dei bambini vaccinati in Italia è secondo noi un errore politico che non considera l'elevato tasso di sfiducia dei cittadini nei confronti della politica. A parlare il presidente della regione Puglia Michele Emiliano che ieri a Bari ha incontrato insieme ai loro legali una delegazione di cittadini contrari all'obbligo vaccinale introdotto dalla legge 119 del 2017. Questa, dice Emiliano, è stata un'occasione importante per ristabilire questa fiducia reciproca. Abbiamo infatti scoperto in questa occasione che nessuno è contrario ai vaccini e che le polemiche sorgono solo a causa dell'abnorma estensione dell'obbligo vaccinale. La nuova legge sta seminando panico, creando sospetti e reazioni negative. Persino una regione come la Puglia, tra le più virtuose d'Italia in materia di vaccinazioni, da quando il governo ha deciso di intervenire con tanta decisione, sta registrando un calo della propensione a vaccinarsi. Ciò che prima era normale e ben accetto dalle famiglie, oggi, dice Emiliano, a causa di una legge che sottopone i cittadini a sanzioni, come la non iscrizione a scuola o multe in denaro, sta provocando l'effetto contrario, sottolinea il governatore pugliese. Un errore politico molto grave che purtroppo è stato commesso. Adesso stiamo cercando di dare assistenza alle famiglie nell'applicazione di questa legge, della quale, a nostro avviso, non si sentiva il bisogno, ma che comunque va applicata. E questo incontro tra regione e cittadini è finalizzato proprio a minimizzare i disagi. Dobbiamo applicare la nuova legge, ha poi spiegato il direttore di Dipartimento Giancarlo Ruscitti, e come regione stiamo cercando di alleviare la problematicità di tutte le famiglie e di tutti i bambini sottoposti all'obbligo vaccinale, evitando un inutile circolo di carte tra amministrazioni. Come regione non abbiamo nessun potere coercitivo, ma il dovere di spiegare al cittadino i vantaggi della vaccinazione e i pericoli in caso di vaccinazione e in caso di non vaccinazione, fermo restando che i medici hanno tutto l'interesse ad evitare che bambini potenzialmente a rischio vengano vaccinati contro il loro interesse.